e riviusi a sml ciao amici come state? spero tutto bene oggi andremo a mangiare una cosa di cui mi è venuta voglia sono stata al supermarket e quindi adesso andremo a mangiare insieme le mousse andiamo a mangiare le mousse eccoli qua ragazzi le super mousse sono tanta roba ragazzi abbiamo i quattro colori li ho presi tutti perchè mi piacevano gola ragazzi guardate quanto sono belle ma poi andremo anche a fare il drinking aspetta perchè il gatto qua che ragazzi è il gatto che oggi la rompe un po' le scatole e quindi lo devo buttare giù perchè siamo un po' in pericolo con questa roba qua un po' è liquido ecco beh sono pericolose ecco qua le nostre mousse trinchi mousse trinchi mousse trinchi mousse trinchi mousse trinchi mousse trinchi bene ragazzi iniziamo subito a mangiare e gustarci queste super mousse mousse trinchi mousse trinchi mousse trinchi mousse trinchi questa deve essere del kiwi ragazzi assaggiamola togliamola in porca wow buono dopo ragazzi scrivete sempre in un commento quale secondo voi è la mia preferita che dopo la fine del video ve lo dirò mousse 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 questo sarà il limone sicuramente buono andiamo subito con l'arancio bella questa buono Sì, 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 sì. wow 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 Sì, 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 sì. bene ragazzi adesso andiamo alla classifica quarto classificato giallo limone avete scritto nei commenti qual è il primo classificato secondo voi vedete le possibilità terzo classificato l'arancio che sì che era bello tosto però io l'arancio sì lo amo ma non tanto comunque era buono lo stesso secondo classificato ragazzi il kiwi quello verde è il primo classificato in assoluto beh ragazzi la fragola che veramente era stupenda quindi ragazzi ci vediamo alla prossima al mio prossimo video e vi ringrazio della vostra buona visione e buona giornata a tutti quanti ciao ragazzi ciao 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 Go Go Go